ma ehi la ciurma rieccoci qui io sono di nuovo mazzetess e siamo qui con un nuovo episodio di spore galactic adventures nello scorso episodio abbiamo fatto circa tre missioni e in più ero andato a recuperare un po di spezia in giro perché avevamo la stiva un po' vuota adesso continuerei a fare le missioni visto che dovrebbero mancarcene solo più sei quindi magari con un paio di video potremmo cavarcelo saluto impero minor serve che faccia qualcosa alcuni di essi sono stati rubati ok allora arrivederci devo andare a recuperare della roba in giro niente di più semplice così vado a esplorare anche qualche sistema che non conosco ottimo su che pianeta è questo che sistema allora palchia nicoliche nicoliche ok nel senso nel sistema di nicoliche dove è andato ok uno è andato ci mancano palchia e seva allora a palchia dove siamo qua adesso impero peter griffin spero che non si incavoli in solito riprende della roba oddio stanno attaccando mozzos kings abbiamo urgenza per finire sta missione no non abbiamo urgenza andiamo subito ad aiutare il nostro caro amico su mozzos kings anche perché poi è un pianeta di un iscritto dobbiamo andarci assolutamente il più in fretta possibile allora andiamo qua si ok termina comunicazione arriviamo stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando mozzos kings andiamo picchiare sti pirati maledetti pirati che ci stanno attaccando dove sono andato dove dove siete qua qua eccoli guardali guardali sti pezzenti c'è c'è un altro in giro la guarda che stanno attaccando guarda che stanno attaccando guarda che stanno attaccando guarda che stanno attaccando dove dove ehi guarda come vogliono rubare la spezia sti pezzenti qua sotto ce n'è no questo qua vuoi vedere che lui ma ora ti becchiamo eh dov'è dov'è è finito l'attacco si era un po' i pochini allora ciao bello ha potuto chiedere se abbiamo bisogno di qualche spezia adesso glielo chiediamo così vediamo ehi 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 dei soldi anche qui sono niente però no ok niente più soldi vediamo adesso ciao belli commercio volete qualche cosa no niente non voglio un kaiser ciao modos kings allora dobbiamo andare a prendere l'altro manufatto l'ultimo manufatto che è su quel pianeta laggiù in fondo ma già che siamo qua vicino a casa ricarichiamo un attimo le batterie ciao si sono pieno di spezia lo so ricarica e ripara ah mi hanno anche picchiato ma i miei alleati stanno tutti bene allora dobbiamo andare qua giù in fondo tipo no no in quello quello dietro questo qua ok che non avevamo entrato mai esplorato eeeh scusa eh cosa che dovevamo se seva o palchia cosa c'era rimasto no no non è nessuno dei due qua non c'è ma se non è il sistema giusto ah no era qua si era questo ops se va ok si è qua fa un po' freddino se c'è il sistema eh c'è porca la miseria ottimo ce ne andiamo subito peter griffin alla prox tra l'altro perchè colonizzi su un t0 che non ti serve un kai vabbè la i è un po' idiota effettivamente ma per fortuna perchè altrimenti come cavolo ce la caviamo qua torniamo a casa non è qua che devo andare si è il pianeta pale perchè c'è quell'altro raggio la non lo so ma eeeh ah me ne manca ancora uno vedi che questo qua aveva un senso devo andare fin laggiù ah il pianeta pale si è laggiù ok credo fossero tre i manufatti invece no ok andiamo sul pianeta pale recuperiamo l'altro manufatto oh tra l'altro cosa succede? trasmissione arrivo da tempo che vola ciao cosa succede? ah no dovevo consegnarlo loro ok ottimo ho recuperato anche le modellazioni planetarie cos'è? ah terra verde forse si adesso devo tornare di la per ricevere la ricompensa ok e quindi arrivare a meno 5 ma cos'è che vogliono qua? probabilmente vogliono vendermi il tutto si allora noi qua ci andiamo volentieri anche perchè è un verde e blu è un ottimo sistema questo c'è un T2 e e basta ah ragazzi però mi dice no scusa un attimo voglio comprare il sistema solare aspetta un attimo prima vediamo se posso venderti della spezia perchè più che altro 37 ci sta no 44 18 ci sta no è basso anche questo quindi arrivederci ti compro il sistema per 5 milioni dovrebbero bastare si prova 3 milioni? si ottimo era solo un T2 quindi cos'è che abbiamo sbloccato? impero 5 eccala visto? semina nuvole caldo e aria condizionata che io andrei anche a comprare ma ora vorrei prima allora andiamo a comprare anche questo sistema e facciamo altre due rotte commerciali ma prima vediamo se vogliono della spezia perchè qua dobbiamo poi anche guadagnare dei soldi non vogliono un kaiser di nulla tanto perchè e beh anche perchè se abbiamo fatto le rotte commerciali con loro fino ad adesso scusate questo che cos'è che ha? un T2 e boh anche questo sistema non è mica male eh vai con 3 milioni ok ottimo allora instauriamo delle rotte commerciali anche con chi a sto punto ma andrei a instaurarle anche con l'impero a me visto che sono qua in mezzo ai piedi qualche sistema bellino tipo questo qua con la verde mi piace mi piace piccino ma comunque ha un T2 ci sta ma allora ciao diplomazia una rotte commerciale ok aspetta vogliono comprare qualcosa per caso il blu a 17? no no niente per ora vediamo se ci sono altri sistemi interessanti da acquistare qua intorno quello è giallo questo è giallo questo è giallo questo è giallo quello è giallo e verde quello è giallo e qua da loro ah questo qua è interessante si c'è un viola ed è un T2 un T2 viola si ciao allora prima voglio fare commercio vediamo se voglio che non voglio un case di niente come al solito bello diplomazia una rotta commerciale con te ok ciao bello allora adesso andrei prima a completare sta missione finalmente dov'è che devo andare? oddio cosa succede? degli ufossili vabbè occupatevene voi non è che posso stare sempre dietro porca la miseria allora andiamo qua intanto se mi rubano un po' di spezia non è che sia chissà che cosa commercio vogliete qualcosa? ma nessuno vuole niente ah no 26 mila no 46 mila è la verde cioè 40 mila la verde il prezzo di vendita standard ecco massimo no 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 non mi piace questo saluti ciao ricarichiamo allora commercio tu vuoi qualcosa? non vuoi un case di niente anche tu ma è normale no però aspetta voglio comprarti quei i deformatori la tu quanto li vendi? se li vendi sono questi forse semina nuvole caldo si e? hai solo quello? ha solo quello? ah no c'è anche aria condizionata 600 mila ok secondo me possiamo trovare dei tempi che vola almeno più basso allora andiamo dai tempi che vola vediamo o dall'impero me allora andiamo a vedere commercio loro ce l'hanno 300 mila che è la metà ed è già un'ottima cosa arrivederci arrivederci e andiamo a vedere allora dall'impero me che erano dei commercianti forse forse viene ancora meno ciao commercio sempre 300 mila ah no hanno lo stesso sfondo dei cosi quindi sono degli ecologisti anche loro da quanto mi ricordo andiamo a vedere invece dagli human ciao commercio no non ce l'hanno nemmeno non ce l'hanno nemmeno loro allora andiamo a vedere qua il viola di sicuro no però di la forse su santa claus c'era un o più in la ancora di santa claus c'era qualcuno che ce li vendeva pochissimo quella roba la qua sempre 300 mila perchè sono sempre lo stesso sfondo alla fin fine di la c'era santa claus no andiamo a vedere un attimo su santa claus gli altri non ci vendono niente però santa claus magari ci può vendere alcuna cosa ciao commercio quanto ci ho fai? 360 mila no mi spiace gli altri non commerciano con noi e non mi ricordo se di la c'erano altri imperi quindi provo ad andare a vedere dalla parte dei dei griffin e i loro vicini se per caso c'è qualcuno che vende a meno no loro non ce l'hanno neanche arrivederci andiamo a vedere qua ciao bello allora commercio no 360 però vuoi qualche spezia? non vuole un kaiser di niente nessuno porca miseria facciamo un salto qua a vedere se voglio della spezia non lo so vuoi della spezia? eh? eh? eh niente non vuole un kaiser di niente perchè nessuno vuole più la mia spezia? porca porca di una miseria allora abbiamo visto che i più convenienti sono comunque il tempo che vola con 300 mila ciao commercio non vuoi nessuna spezia vero? niente allora andiamo con questo acquista e con aria condizionata questa è stato un piacere così possiamo interaformare molto più facilmente andiamo a vedere qua per caso se vogliono della spezia se no facciamo una missione e buono volete della spezia? dai spezia fresca spezia fresca no vogliono un kaiser di nulla ma è possibile dateci una missione no no non voglio intervenire in questioni di politica internazionale qua andiamo a vedere il suo sistema che bel pianetunculo sembra carino ciao voglio qualche cosa? 48 ma potrei guadagnarci di più con la spezia viola porca miseria la verde 26 anche bassa missione lina ok ok allora dobbiamo uccidere degli animali infetti qui allora su lina dell'espici di terra ok 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 Ottimo ne ho ucciso anche qualche ad uno non infetto Ma almeno non abbiamo perso troppo tempo Anche perchè dai sono già 16 minuti Quante missioni abbiamo fatto tipo 2 Ci va un sacco di tempo qua Allora andiamo un attimo qui Ciao belliximi vi abbiamo fatto una missione Yeee Non ho voluto ancora niente Niente Vediamo un attimo Quante ce ne mancano quindi di missionario 4 missioni Infatti abbiamo fatto solo 2 missioni Almeno un'altra dobbiamo farla Lanciamoci qua E chiediamo una missione a loro Prima di acquistarne il sistema Ciao Vitto una missione veloce Ma non mi piacciono queste in cui devo intervenire nella politica internazionale Ho detto detto Andiamo qua Ma i minero sono sempre così militarizzati Porca ad una miseria Ciao Ciao Missioni eh una missione Ehm no Non voglio intervenire in ste cose Aspetta magari vi comprate qualche roba Sì La spezia viola finalmente Ok dai 5 milioni me li sono fatti almeno Allora andiamo a chiedere ai me se hanno qualche cosa Oh guarda questo è un sistema carino eh Pieno di verde Potrei farci una volta commerciale in futuro Ma tanto non me ne ricorderò E quindi Non la farò Missioni Ciao Ok ci vado Sperando che non sia Vei plot game stars Oh tra l'altro qua non c'ero mai sceso Casta 2 ha detto Si Oh Santi inumi Taglierò di nuovo per l'ennesima volta Rieccoci belli Solita stupida missione Vei plot game stars Non ne posso più ormai Non so se c'è un modo per togliere la cosa Ciao bellissimo Comunque boh sono passati quasi 20 minuti direi Più di 20 senza contare il taglio Quindi io direi che ci vediamo nel prossimo episodio Di Spore Galactic Adventures Della prossima settimana E vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto Iscrivervi se per caso non lo aveste ancora già fatto Noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti